bella ragazzi siamo in Kranas e oggi siamo in via ho il flow ma che flow? ho il flow come vedete ho questa cosa no perchè mi chiamo come se fossi un mulo ho il flow stai zitto e battene a fanculo ho il flow allora stavamo dicendo ho questa cosa no perchè so pocaontas ma perchè faremo un gioco oggi una challenge molto figa che cosa fai adesso? faremo un gioco molto figo che si chiama non lo so cioè praticamente noi faremo delle carte che ha lui in mano sono sue quindi passate sul suo canale perchè sono sue e niente io metterò in testa questa cosa o una a turno tutti quanti e gli altri dovranno diciamo imitare quella cosa che c'è sulla carta per farla indovinare a quello che ce l'ha in testa esattamente molto semplicemente esatto la prima carta ma la devi guardare però vai mettila chiudi gli occhi no guarda che fa a me la stai guarda la ha il fa a me sto fa così sto fa non sto a guarda non l'ho vista non l'ho vista eh che? che devi fare? dobbiamo fare... eh ma non ti metti a stare ah ma quindi in due lo dobbiamo fare senza farla senza farla ah fa così e guarda qua e devi guarda poi ah no fai mi so che cazzo che cazzo che cazzo stai a dire? stai a dire? stai a dire? ma cazzo la fai? eh eeeh è una scale che è? ehm una scala una scala no ho fatto così di farci arrivati della cosa unitaria se non è tornato in una bella scala no si è la scala al momento di fare forza hai la leggera via il senso di becchi ok non si vede aspetta cazzo fa buone comunque un pacco di raccoglie poi qui che ne so perché io non ho detto che non vuol dire giocatore si no freddo è una gallina no un gallo e la patata no aspetta 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 cazzo capito 8 gara vanno perchè quando dopo che si gira come fanno perchè poi si gira lo struzzo si gira tutto si gira tutto no no oh che cazzo stai ah capito ah che cazzo bravo dopo mezz'ora ci arrivi dopo mezz'ora ci arrivi dopo mezz'ora no sei grande dai e si guarda fai cazzo che carino io l'ho vista certo ah ho visto male ah certo l'ho vista al contrario allora pensavo fosse il pinguino che ha luce la lampadina ho preso bravi io più tanto ma che fate ma l'airo io non quello non ho visto cos'è no a posto a posto no aspetta cosa aspetta 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 si fa un film per favore ma io faccio così ti è che cazzo non è per lui elettro posto indino e questa è la maglietta o aspetta parlo sottomissione paolo il padre è detto la volta che avevo lì di così una palla l'iniziasmo riuscire scurrici ma che era la vita di roma certo che è il giro a ferro no con un uso da questa pista il testo di pista se ci hanno un consiglio la parola per il mio personaggio ma anche che è un suo non è un leone un leone per un po con l'idea che è il cricero un vampiro un pipistrello bravo batman pipistrello che su ti alzango è più facile prossima carta è l'uomo pipistrello bravo tibri che lotta contro il male che cazzo ma che è? cos'è? e che cazzo ne so? questo è il coperchio a pentola che è? apre il coperchio e dai ma che cazzo ne so? aspetta quando un uomo 360 unito a paroncino che è? il secchio da assurdo 360 ti ho qua cosa esce? sangue che in realtà è in realtà ahahahah che cazzo tra alcuni dei nei film dei film invece dei che cazzo ahahah fa faccuno fai 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 faccuno Grazie per la visione!